Una tromba d'aria si è letteralmente scatenata su uno stabilimento balneare in Salento. Ci troviamo ovviamente in Puglia. Terrore e paura nonché grande preoccupazione nel primo pomeriggio di ieri, 26 luglio 2024. Tutto si è verificato in pochissimi secondi di tempo, però i danni sono stati abbastanza evidenti. Per fortuna i bagnanti presenti non sono stati protagonisti in senso negativo, solo qualche ferito in maniera lieve, ma qualche contusione in stop. Il 118 è arrivato in loco e per fortuna c'è stato il salvataggio collettivo che è stato attivato fin da subito nel tratto di ritorale salentino colpito da questa tromba d'aria. È uno stabilimento balneare, ripeto, ubicato nel Salento, precisamente a Rito Marini, Marina di Ucento. Vi ringrazio a voi per l'ascolto, siete abitati in loco o comunque siete stati in villeggiatura, come in vacanza lì, direi se vi ristrano la tromba d'aria. Buona serata a voi tutti.